Siamo stati insieme È molto importante, è come una famiglia per me Di famiglia non ho più nessuno praticamente Non è guerra, noi cerchiamo che da questo Natale possa Posso dirti che abbiamo capito molto di più Che abbiamo il bisogno di essere insieme Anche a distanza, anche se è il periodo molto difficile Ma è il periodo anche difficile alle persone che sono magari più fragili di noi Che hanno più bisogno Noi abbiamo oggi realizzato la festa del dono Per dare un regalo personale a persone in difficoltà Senza dimora, anziani, rifugiati E abbiamo voluto questa cerimonia molto semplice e concreta Per restituire il senso della festa a tanti Grazie Grazie Dobbiamo liberare Grazie 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 Grazie